E' una perdita veramente dolorosissima, dolorosissima per l'immensità della persona, maestro straordinario, il più grande erede del teatro eduardiano, ma poi anche un amico, una persona di cui ho imparato a conoscerne in questi anni soprattutto l'umanità, la sensibilità, la profondità e la costante attenzione soprattutto per i giovanissimi, per i ragazzi in difficoltà, i ragazzi che hanno sbagliato e che dovevano essere aiutati, i scugnizi della nostra città. Quindi anche l'entusiasmo, pur non stando in condizioni di salute ottimali, pur l'entusiasmo con cui lui aveva accettato di dirigere la prima scuola napoletana di drammaturgia in lingua napoletana, che noi abbiamo fortemente voluto nel momento in cui il teatro stabile di Napoli è divenuto teatro nazionale. I progetti sull'ex carcere minorile filangeri che da pochi giorni è entrato nella disponibilità del comune, i progetti su Nisida, sulla fondazione Edoardo, quando abbiamo ricordato Francesco Rosi anche con la moglie Carolina a cui va un abbraccio affettuoso a lei e a tutta la famiglia da parte mia e di tutti i napoletani. E' una perdita enorme. Io quando vedevo Luca, vedevo Edoardo e quindi adesso il compito nostro è preservare quella tradizione immensa e senza fine che è il teatro popolare della nostra città. Le parole ultime di Luca hanno coinciso con le parole ultime di Edoardo, cioè sempre l'attenzione ai ragazzi, agli scugnizi, ai ragazzi di Nisida, ai ragazzi dei quartieri, ai ragazzi deboli che hanno bisogno di aiuto e che hanno bisogno di punti di riferimento. Questo credo che sia il testimone più grande. Edoardo se ne andò sperando che si potesse fare sempre qualcosa di più per i giovani, Luca se ne è andato nello stesso modo. Infatti l'ultimo incontro pubblico l'abbiamo fatto al Maschiangioino in occasione dei 30 anni della legge Edoardo. Stavamo lì e abbiamo parlato proprio di questo. Lui già non stava bene, infatti anche l'ultimo spettacolo che ha fatto al Teatro Augusteo si vedeva che stava peggiorando seriamente. Quindi questo è il testimone che ci lascia, fare sempre di più per i giovani della nostra città. Qualche giorno fa, prima che si ricoverasse, con Luca si era fatto un sopralluogo alla Galleria Principe di Napoli, perché avevamo deciso, adesso che stanno per terminare i lavori a fine anno, una parte di quei locali li avremmo destinati proprio alla scuola. Quindi là ci sarebbe stato il cuore pulsante della scuola, in quella strada, che dall'Accademia delle Belle Arti, dal Teatro Bellini, il Museo archeologico, conduce verso Via Foria e San Ferdinando, dove è il cuore del ricordo e della vita di Edoardo.